Oggi andremo a reagire a tutti gli episodi nuovi, nuovissimi di zecca della stagione degli schifo di Toilets Insieme a me per oggi c'è un mio amico, Poverotto! Ciao Poverotto, da qua su tempo mi è rimancato Papà mi ha detto che dovevo venire assolutamente a partire da questo episodio, l'episodio 39 E quindi ce ne sono veramente un sacco da vedere, ma tantissimi, stessimi, stessimi, stessimi Ma chi è questo uomo elegante? Sei troppo elegante per i miei possi, guarda sull'incarottiera E cos'è quel ragionazzo? Cos'è quel ragionazzo? Amico, ti prego non mi ipnotizzare Che io devo fare i miei balletti molto sexy Allora Poverotto, devi proteggermi perché io ho veramente paura Anzi, aspetta che ti metto la mano nel sederino Ma aspetta, ma con questo raggio ha sconfitto tutti gli schifo di Chelsea Poverotto, hai capito? È incredibile Oh mio Dio, qua è pieno Ce ne sono tantissimi, è un esercito Sempre lui Fermi tutti Ma quello lì è grossissimo C'ha quattro teste Poverotto, ma come fa? Ok, ok, all'inizio mi stavo un pochino antifattico, devo dirlo Ma ora... Mi ha giocato Aspetta, non vedo più niente Non vedo... Non vedo... Non vedo di essere Ok, già, ma smetti di ridere Mi stai... Non so se mi sta simpatico o antifattico Perché mi rite sempre in faccia Secondo me mi prende in giro E qui invece... Ok, ci sono tutti questi cessi Ma non hanno capito che c'è il mio brother Il mio brother che ti fa pii... What the fuck? È incredibile Ma è grandissimo, amici! Non ho se immaginare questo che cosa possa fare Tutto è morto! Stupidi! Scemi! 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 Stanno avendo tipo un attacco epilettico Guarda come girano Non è che mi tiro la testa poi Ora ci sono tanti cessi Tutti quanti vuoti In quale vorresti andare a fare la cacca? Ma vero? In quello la nero con le lucine Sì, è vero Sembra un bel cesso da gaming Sì, è grande E sconfitti tutti, goto È anche lì che ci fa la faccina Wow! Sono rimasto sotto Shock Non ero abituata a vedere tutte queste cose fighissime Ma mi ricrutavo dei vecchi tempi Dove c'erano i cessi piccolini Ma questa è tutta colpa di papà Che non mi fa quasi benvenire su questo canale Rimagliatevi qua sotto nei commenti Se volete più video con me Sì, vogliamo bello Sì, no Giuro che non ho parlato io Oddio, guarda Allora, qui ci sono due schibri seragnetti Ma che cosa voglio fare? Mi fanno ridere Ma dove ho la bocca? Aia! 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 Erribile! È bruttissimo! Non aveva la bocca Ok, qua c'è un esercito di miei broderoni Con il televisorone E qua Cosa? Si sono messi gli occhiali per proteggersi dai raggi? Oh cavolo, questo è un problema Ehi amici, fate qualcosa Ehi Brutti pezzi di fango Sono spareti Se io vengo attaccato da una gang di goblin Tu non mi abbandonare mai Ti abbandonerei soltanto se fossero due di loro invece che uno Mi amico di cacca Vabbè, guardando da qui Io faccio jiu jitsu karate Ho colpito la videocamera Ho sbagliato, ho sbagliato Guarda qua, questi pezzi di fango Che hanno i lenti per proteggersi dai raggi Potentissimi Attenzione Oh, è tornato l'uomo grosso E ora non si scherza più E questo che cavolo è Sembra uscito da Spider-Man Mi ha tirato un destro Ma anche lui fa karate jiu jitsu? Assurdo Gli ha rotto gli occhiali E poi l'ha ucciso Ah! Un raggio! Un raggio, un razzo Un razzo Madonna Mi sembra esagerato adesso Ma che cos'è tutto questo arsenale? Ma chi è che te lo dà? Ma com'è che un cesto può costruirsi un arsenale del genere? Guarda! Non ci posso credere Adesso è diventato un super tv tv cassa E li ha fatti esplodere! Ha messo anche gli amplificatori dell'audio Vedete ragazzi, ho studiato Conosco i termini tecnici Ma quello Aspetta un moment Ma quello è Il speaker titan Che bellino Però non mi sembra tanto amico E infatti lui si sta arrabbiando Ehi 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 Calma, fate pace Ai miei tempi Non si facevano queste guerre Le guerre sono brutte Tu fai pace Prendi il dito e il dito E fate pace, no? È così semplice Invece questi qua sono i razzi Le cose Cioè ma mi sembra normale Che deve esserci un bombardment? Io poi ho paura Io Oh cavo Cosa sta facendo? Ma sta combattendo contro il tv? Cioè questo qui ha fatto l'infame A me e a paperotto Gli infami non piacciono Infame cassa? Infame cassa? Non mi piace proprio Tanto non ce la farai mai a battere Il super mega uomo televisore grossissimo Sì Prendi questo Scappa via codardo Stupido Scemo È un po' scemo E lì mi fa la faccina Mi è sparito? Ma è un mago Harry Potter No Harry Potter Oh mio dio È dentro lui Harry Potter Mi pare Aggra giù 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 E la madonna Cos'è quei? Un dinosauro Ma cosa c'è al posto della bocca? Un buco nero? Ma che cos'è? La mia maestra Di scienza E mi diceva sempre Che quando entro le cose all'interno Di un buco nero Che vengono risucchiate Poi Non escono più Un po' come dal sederino di paperotto Io una volta qua dentro Ci ho messo 100 euro E non li ho più trovati Mamma mia ma poi quanti nemici ha questo tibù? Oh mio dio Ed è infizzato le spade Nella testa Cosa? Ma perché ci sono i camera Vengono lì dentro? Ehi non sto capendo amici Non sto capendo La situazione si sta facendo Veramente critica Allora qui c'è Il signor Speaker Titan Stupido Infame Che sta scappando Mentre qui c'è Il super mega gigante Tv man Che lo cerca giustamente Nooo Ma cosa vuole lui? Ma perché deve sempre rubare Madonna Ma scusate Ma stanno combattendo Quei due Che cosa vuoi tu? Faccio da culo E corpo da cesto Cioè se mi avevo messo male Nooo Era una trappola Nooo Nooo Mi stanno tagliando via Non ci posso credere Nooo Nooo Il mio brothers Il mio bro gang gang Nooo Nooo Mi ha infilato un coltellazzo Nell'occhiazzo Che poi non c'è un occhiazzo Nel monitor E la peppina No sono troppi È impossibile E poi arriverà niente Ma è sparito Aspetta Ho fatto una macchia Harry Potteriano Haha Godo Stupidi Voi pensate Di riuscire a sconfiggere Il mio tipo Man brother Bro della gang Ma non è della mia gang Giusto paperotto? Se sei della gang di Maxino Tu sei il più forte Cacchio E chi è questo tizio? Ma se come sei brutto Mamma mia E qua ci sono gli elicotteri E la peppina Ma che cos'è Adesso diventeranno anche Dei jet privati Va bene Allora qua ci sono tutti quanti Cosi oscuri Qua ci sono dei cameraman Che vogliono combattere Con degli storacabinetti Sono molto belli Gli storacabinetti Una volta li ho utilizzati Per scacciare via Una mosca E diciamo che ho sbagliato Ho rotto il lampadario Però va bene Ce l'ho quasi E questo qui Oh mio dio C'è questo cameraman Era stato impossessato Da un minicezzo Che gli era entrato dentro E con il raggio laser E' stato Oh my god Questo qua E' un problema E' un grandissimo problema Ma che male Che busta Oh guarda qui Ma quanti ce ne sono Sono troppi Sono potentissimi Hanno distrutto Una città Lui Gli hanno tolto le gambe No Il bro camera minza Il camera minza No No Sto maceriaio Prepara le cosonette di pollo Ma che bella Wow amici Credo di essermi innamorato E' proprio bella Io te lo chiedo Forse potrebbe essere Un po' affrettato Ma Vuoi essere la mia fida Perché non risponde? Vabbè ci sta Posso capirlo Soltanto perché poi Lei è impegnata A fare queste cose Glielo chiederò Quando avrà vinto La battaglia E adesso è arrivato Di nuovo Un uomo super cazzuto Oh Filanzata mia Ma che cosa Ma non sapevo Vessi a testa Smontabile Ma cosa sei? Un Un lego Che ti monto E ti smonto Ma che cos'è? Vabbè Mò è tornata A posto Wow Sono ancora Pi' innamorato Sei potentissima Proteggimi tu Da paperotto No poverotto Volevo dire Non fare niente Ma Mè Harry Potter Si è trasportata No vabbè Ma cosa Cosa fa quello? Cosa sta facendo Quello? Aspetta un attimo Perché sta ballando Giustizia Arancione Lo so fare meglio io Ehi guarda come sono bravo Ma questo è proprio un laboratorio segreto Posso venire anch'io? Posso Posso Dai Che palle Nessuno mi vuole mai Ma C'è un allarme Cosa succede? Cos'è sta roba? Perché stanno scappando via tutti? Ehi Meglio che non ci sono andato Poverotto E la peppina Questo qua sputa poco Poverotto Cosa sta succedendo? C'è un super mega bombardamento Tra raggi Cosa E la peppina Ma che cos'è? Call of Duty E call of Duty Ecco Guarda Hanno tutte le protezioni E adesso Uh Ma E lui chi è? Chi è? Ma c'è po' Super camera Min gigante Supremo Super Saiyan 7 Wow Attento dietro Ma che Ma cos'è sto fuoco Mamma È proprio pezzotto Posso dirlo? Uuuu L'ho accarbonizzuto No Non ci posso credere Fai muore anche lui Fai muore anche lui Sì Ma è fortissimo amici Wow Wow Like Come quello che dovete lasciare al video Ragazzi Amici Lasciate like E se ne vola via Ci ha salvato la vita Wow Like Sì Tutti like Mettete tutti i like Amici Mi sa che gli episodi sono finiti qua Io sono veramente sotto stato di shock Ho una nuova crush La TV Women's Spero che un giorno riuscirò a conquistarla Noi ci vediamo in un prossimo video E ciao amici Ciao Scusa poverotto Ciao